Vorremmo chiedere l'internalizzazione noi, perché bastano questi appalti di ditte che vengano uno o due anni, poi si portano via la cassa e ci lasciano lì con un mucchio di mosca in mano. Internalizzazione! 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 Siamo molto preoccupati perché quello che è accaduto in altre regioni d'Italia, nel mondo della logistica, è una minaccia anche nella nostra regione. Abbiamo assistito a indagini della Procura della Repubblica rispetto a illegalità in questo settore e i continui cambi appalto che anche in Toscana si susseguono per noi sono un'avvisaglia. Sono qua a sostegno dei colleghi che non sono praticamente stipendiati dall'azienda e ciò non favorisce né noi né loro. La produttività e la sicurezza non vanno mai d'accordo. Se tu mi cerchi di andare veloce, fare anche essere sicuro nel lavorare. I continui cambi appalto, solamente quest'anno ne abbiamo fatti più di 40. Questo fa sì che i lavoratori alla fine dell'anno ci rimettono contributivamente, ci rimettono come conguagli fiscali. Noi vorremmo l'internalizzazione dei lavoratori e l'assunzione diretta da parte delle committenze. Basta appalti, basta subappalti, basta illegalità, basta precarietà. Vogliamo proprio chiedere un aiuto, siamo qui di fronte alla Prefettura e al Prefetto e alla Regione Toscana, alle istituzioni, perché quello che è accaduto in altre regioni d'Italia non avvenga qui. Internalizzazione!